ciao a tutti nel video di oggi leo con molta umiltà afferma di essere il bambino più stiloso al mondo poi gioca scherza e balla con papà fedez vi lascio al video buona visione i lunghi periodi che dobbiamo trascorrere a casa è da un po di mesi che sto testando i purificatori d'aria dyson e questo amico che vedete qui è l'unico ad essere purificatore ventilatore e umidificatore faccio la pipì sì amore non proprio la pipì però vabbè chi è il bambino più stilosino del mondo 5 del campione 5 il pugnetto e ruba naso oh no naso è mio ecco è io manco naso vai one two three four fai glielo in faccia amore un po' un po' un po' Sì